La nave di Ciotti è sempre ferma nel porto di Catania, come potrà sbloccarsi la situazione? Da ministro, da italiano e da papà, penso che all'immigrazione l'Italia abbia dato abbastanza. 700.000 sbarchi in pochi anni, 160.000 ospiti negli alberghi a spese degli italiani, 130.000 domande di asilo politico che è eredito dai governi precedenti, quindi ho deciso di mettere un freno. Stop, in Italia arriva chi ha il permesso di arrivarci, quindi questa ed altre navi non sbarcano nessuno in Italia, a meno che l'Europa finalmente non si svegli, non faccia la sua parte e accolga come abbiamo fatto noi negli ultimi anni. Ma il leader leghista è preoccupato per l'inchiesta della procura di agrigento per sequestro di persona? Sono tutt'altro che preoccupato perché sento di me la maggioranza degli italiani. Se c'è qualche magistrato o qualche procuratore che vuole indagarmi per sequestro di persona, faccia pure, mi presento, voglio spiegarle le mie ragioni, se qualcuno pensa di arrestarmi sbaglia a capire perché c'è la maggior parte del popolo italiano che chiede ordine, regole, rispetto e un'immigrazione sotto controllo. Chiedo ai magistrati che fanno bene il loro lavoro di fare in modo che i processi durino di meno perché ci sono 4 milioni di italiani che attendono giustizia, quindi non penso che un processo a Matteo Salvini possa servire a nessuno. La polemica con il Presidente della Camera FICO e lo stop all'intervento di Mattarella e Conte potranno avere conseguenze sulla stabilità del governo? Io voglio rispettare quello che ho promesso agli italiani. Meno tasse, via la legge Fornero, meno burocrazia, pace fiscale con Equitalia. E quindi combatterò fino all'ultimo per mantenere questi impegni. Mi piacerebbe che gli alleati facessero lo stesso, ognuno si occupasse del suo lavoro e non ci fossero interferenze interne o internazionali per rallentare il lavoro di un governo che finalmente rappresenta il cambiamento e raccoglie la fiducia di milioni di italiani. Io non mollo, non mi dimetto e non retrocedo di un millimetro.